Ed ecco a voi ragazzi Lucignoloone è andato a trovare i ragazzi al Palarossini Volete sapere qual è il segreto per un'inquadratura un po' così? Basta muovere la telecamera alla cazzo di cane ragazzi, alla cazzo di cane Noi ci bruciamo le dita del Piero Noi ci bruciamo le dita del... Ehi! Avete rotto l'odore di pollo tutta la sera dopo! I believe I can fly I believe I can touch the sky Noi ci bruciamo le dita del Piero Noi ci bruciamo le dita del Piero Non avete mai visto un bicipite così? UII! UII! Sì! 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 Spettacolo in movimento, ragazzi! Ma vediamo chi ha l'autore! L'imbicile del giorno! Ma bravo! Ma bravo! Ecco! Borgia multietnica! Ai cam! Ai cam! E' questo! E' ciò che ti aspetta! Vieni a flippare con noi!